Dunque vittoria a salutare in Coppa tanti under schierati da Zeman 4-2004 e 2-2003 contro una squadra esperta come il Latina. La meritata qualificazione ai quarti dove il Pescara troverà, anzi ritroverà il Catania che ieri ha eliminato il Crotone al termine di una gara emozionante infinita decisa ai calci di rigore. Si giocherà il Massimino in gara unica mercoledì 13 dicembre, ancora da stabilire l'orario. Il pensiero torna inevitabilmente alla semifinale play-off per la promozione in B di quasi 22 anni fa, domenica 26 maggio 2002. Una clamorosa ingiustizia perpetrata ai danni dei biancazzori di Ivo Iaconi che all'andata si erano imposti 1-0 grazie a questa prodezza di suppa. Vistoso fuorigioco dell'ex Cicconi, arbitro Bergonzi di Genova, uno dei due assistenti che prima alza la bandierina, poi l'abbassa. Pazzesco! Ci sarà tempo naturalmente per riparlarne. Intanto, rinfrancato dal successo di martedì scorso, il Pescara deve ritrovarsi in campionato. Sabato prossimo, ore 16.15, lo scoglio in Tella si gioca a Chiamari. Sarà la prima di due trasferte consecutive. Dopo tre giorni, martedì 5 dicembre alle 18.30, il recupero di Pontadera. Zeman potrà contare anche su Tommasini, escluso a scopo precauzionale dai convocati di Coppa per un principio di sciatalgia. Al momento un solo indisponibile, il secondo portiere Ciocci. In difesa scalpitano Floriani e Pellacani, tra i migliori della sfida di martedì scorso. Sono avvisati Pierno e Brosco. Fascia sinistra presidiata ancora da Milani. In attacco appare scontato il ritorno tra i titolari di Cuppone, supportato da Merola e Cangiano. In Coppa, nel ruolo di play, De Marco non ha affatto sfigurato, ma quasi sicuramente Zeman darà continuità squizzato. Dovrebbero completare il reparto Tugnov e uno tra Aloy e Franchini. Virtus e Tella prima degli attaccanti Santini e Di Santo, entrambi squalificati. Fuori anche il centrocapista greco Siatunis causa infortunio. Davanti nel 3-5-2 di partenza giocheranno Zamparo e l'ex Primavera Pescara, appena sei mesi, nella stagione 2018-19. Alessandro Fagioli, abruzzese di penne, ancora a digiuno di gol. Mezzala il mancino Mosti, in realtà trequartista che in fase di sviluppo si alza tra le linee per innescare le due punte. In classifica Lentella occupa la tredicesima posizione con 17 punti, a meno 4 dal Pescara e una gara da recuperare come i Biancazzurri. L'allenatore è Fabio Gallo, subentrato a Gennaro Volpe dopo quattro partite. Il suo bilancio è di 15 punti in 10 gare, 5 successi altrettante sconfitte e neanche un pareggio. Appena 13 le reti realizzate come Lucchese, Vis, Pesaro e Juve, Under 23. Peggio, hanno fatto solo Olbia, Spal e Fermana. Nell'ultimo turno di campionato i Liguri hanno espugnato il campo del Ponte d'Era che poi si è vendicato in Coppa Italia sbancando martedì scorso il comunale di Chiavari con lo stesso risultato. 1-0 tra gli ex Zappella, Clemenza e appunto Alessandro Fagioli.